La nostra realtà è completamente diversa. Tutto ciò che potevamo dire e fare l'abbiamo detto e fatto. Senza nulla rimproverarci chiudiamo qui gli editoriali, giacché ripetere le stesse cose non dà frutto e toglie tempo prezioso a progetti che potrebbero rivelarsi molto più importanti. Vi invitiamo a meditare su questa pianta, un bonsai che ci è stato regalato recentemente che, in pochi giorni, ci ha sorpresi e fatto esultare di gioia. Un bonsai che si ribella alla personale visione del mondo di chi lo ha realizzato secondo l'antica arte giapponese, castigando e violentando la sua vera natura. È e sarà il nostro simbolo di libertà, del sacrosanto diritto di vivere secondo le leggi naturali, non sottostando a quelle impositive di chi vorrebbe un mondo adattato e plasmato secondo la propria visione distopica della vita. Sia di stimolo quindi ai pavidi, agli indecisi e, perché no, anche ai fanculisti, perché se dovremo pure trasformare il nostro paese in un'immensa foresta di Sherwood, alla fin fine occorrerà fare i conti con se stessi. Vi invito anche a linkare, la nostra realtà è completamente diversa. 05 ottobre 2021, redazione di Extrapedia Grazie a tutti.